seconda parte del video in cui si sfidano la nvidia geforce fx 5200 ultra questa è una custom di game ward che è anche bella esteticamente ha una alimentazione supplementare come potete vedere qui alle memorie dissipate passivamente una bella una bella cast che strizzava l'occhio ai videogiocatori rimane ovviamente ripeto 5200 quindi la serie proprio economica delle fx vediamo un po cosa ci riesce a regalare e la metteremo a confronto con sempre una nvidia fx però questa volta la 5600 anche questa è una custom albatron quindi game ward contro albatron memorie sempre dissipate passivamente quello che accomuna queste due queste due schede è il fatto che hanno le frequenze di gpu clock e memory clock superiori rispetto alle due precedenti quindi alla sfida precedente qui parliamo di un gpu clock di 325 mhz e un memory clock di 300 mhz sulla 5200 mentre sulla 5600 abbiamo un gpu clock di 325 e un memory clock un po più basso se stiamo ai sui 200 mhz e te lo vediamo in descrizione ovviamente a video le caratteristiche alla fine di questa di questi benchmark di questa sfida partiremo le conclusioni e metteremo a confronto i risultati generali delle quattro schede per avere un'idea di qual era la proposta nel campo entry level in quegli anni quindi parliamo livello 2003 2004 analizzeremo i risultati e vedremo davvero a che livello eravamo e se effettivamente poi ci sono delle differenze se e quali sono le differenze in termini di prestazioni quindi andiamo subito a vedere i risultati del benchmark grazie a tutti c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proseguendo invece, in 3D Mark 03 si ribalta la situazione. La FX 5600 ha un vantaggio rispetto alla FX 5200, il 2102 contro il 1954 della Ultra. Proseguiamo. Come si comportano? Con maggior ragione le quattro schede si avvicinano nei risultati. Quindi vince comunque la 5700 LE, però c'è da dire che la 5700 è uscita quasi un anno dopo rispetto alle altre schede e quindi può vantare una maggiore potenza dovuta al chip grafico un po' più evoluto. Però bene o male, come vedete, abbiamo valori abbastanza uniformi. 3 rolling demo su delle quattro schede. Allora, come vedete, come vedete la radio 9550 sletta rispetto alle altre 3. abbiamo, come vedete la radio 9550 sletta rispetto alla mani della 3. Quindi la cosa che risalta più all'occhio è che la FX 5200 Ultra, che ha un'alimentazione supplementare, che ha il boost del clock della GPU, il boost del clock delle memorie, quindi parliamo ripeto di 325 MHz e 300 MHz rispetto ai 250 e ai 200 della radio 9.550 comunque non riesce a raggiungere ma neanche diciamo lontanamente il valore che riesce ad ottenere la radio 9.550 cosa voglio dire? Voglio dire che questo non va che a confermare il problema che avevano la serie FX di Nvidia cioè quella della gestione del flusso dati per dirla facile tra GPU e memoria la radio pur avendo memoria, quindi clock di memoria e clock GPU nettamente inferiori rispetto alle altre comunque riesce ad ottenere un valore superiore quindi riesce a ottimizzare meglio il flusso dei dati a renderizzare in maniera più corretta, a renderizzare in maniera più efficiente diciamo che il termine giusto è l'efficienza quindi questa cosa insomma si vede chiaramente in questo benchmark il video si chiude così abbiamo testato queste 4 schede entry level dei primi anni 2000 ci siamo divertiti e il bello è stato insomma testarle e vedere di quello che si erano capaci di fare delle emozioni che ci davano quando ci giocavamo ai tempi se vi è piaciuto il video vi invito ad iscrivervi al mio canale mi farebbe molto piacere vi invito anche a mettere un like e niente ragazzi per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti